Stai in Egitto già, tu già ci stai con il tuo papino, sei immortalato nelle... Nelle creope che hai primi serifio, no? Allora facciamo così, questa anno è un omaggio dal forum strategico, il forum strategico egiziano. Sì, è un collubbio con l'Egitto, questo è un collubbio con l'Egitto. E' anche quello là, collubbio con l'Egitto, con l'Egitto, con l'Egitto, se si gira... Se si gira... Io voglio una foto pure io, con mio non me ne ho affatti bene. No, perché la sua mamma, quindi... No, perché la sua mamma, quindi... No, 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 no. io sono molto divertita ma non l'hanno chiamata 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 abbiamo un altro maglio greco qua siccome non c'è stato fatto per cercare ma è una buccia e mi ha imposta a capire la cucchia del frattempo se ero potente 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 come stanno grazie uff 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 così immortaliamo pure azioni nate ecco lo giro un po' di qua tutti insieme e anche per farvi ecco questo la faccio la faccio questa è una piccola mia pure la piccolina questa è una piccola non ce l'ha mai più di là di santa non ce l'hanno a fare questo testito è del nord nel nord ci siamo al cento per cento questo è un uomo io non ho trovato questa io non ho trovato devo prendere il nostro centrale sì sì allora gira di gira di ma lui ce la fa non serve il tacco grazie 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 non è grazie Un'altra non ti prendiamo per te. Ma guarda. Si è girata. Pettina, se sei regista, le fai niente. Un pezzino. E' vero, lo stiamo schiavando. Questi osti, no? Ci stiamo volando. E' quello non lo spazio. Un pezzino sta là. Aspetta. Ecco. Prendiamoci a Pettina e portiamo la mano. Così ci facciamo? Nooo. Non ci facciamo! Ci facciamo una mano, non ci facciamo. Vedi che vada? Vedi che vada? Mi sono alle 11. Adesso. Stiamo a Pettina. Una nuova. Da Pettina. La storia è nuova. Sì. No, no. Grazie.